La freddezza di un veterano inizia una partita per la vetta classifica e mette a terra un ace C'è solta che ha avuto il nastro la ricezione di Recine Brissard spinge e Chester non riesce a chiudere, altra posita per Piacenza Il pallonetto spinto di Rossard Che va a segno Tutte su Francesco Recine Riccettina di schiva, perfetta sulla testa di Orduna che va da Grosher Subito un money out nel mismatch contro Recine Recine Chester e Riccettino con l'aiuto del nastro, palla dietro per Grosher In chioda il piede di Rossard 4 a 3, monta Adesso tocca a Brissard dai 9 metri per Piacenza Riccettino di Davin schiva, perfetta sulla testa di Orduna che sceglie Giavora Il muro palla difesa di Rossard Che non può attaccare perché palla è fuori in indura Federici palla dietro ancora per Giavora Ancuburato, Davin schiva la tiene su Orduna va da Grosher E fatte di potenza Brissard Battuta Ricezione di Davin schiva, uscire dal campo Orduna va da Grosher Ancora prendendo di mira Brissard 13-12, ancora Grosher, siamo a 4 palloni Oltre non ha fatto niente altro che appoggiare il pallone nel campo di Monza La bordata è la guncia Ora Orduna prenderla, poi Grosher Con l'occhiattaccia di Orduna a Recine Cerca comunque di tirare a tutto braccio, non trova il campo avversario La flotta di Orduna ricevuta da Rossard Che poi va con la parallela mancina Bravo Tibor Rossara con un attacco di gran precisione Sta attacchando molto bene con percentuali ottimi a Rossard Assolutamente In questa stagione In questa stagione, ma se ricordiamo qua Ha fatto molto di un repertorio a livello di attacco molto molto vario Difficile poi andare a leggere o a studiare un giocatore del genere Il gran guizzo di Orduna in difesa dopo il muro Il pallonetto di Grosher Rossara a salvare la guncia Ancora Orduna in tuffo David Schiva la tiene su Per Grosher a tutto braccio Georg Grosher Che spettacolo da una parte e dall'altra Che difesa David Schiva in battuta La ricezione di Recine Finisce direttamente di là Non chiude già Voronoc Brisara per Rossar Murato C'è la copertura di la guncia Ancora Rossara Tutto braccio Vola via la pari Perché una palla flottante che arriva da lontano è molto più difficile da leggere per i ricevitori Rossara a forzare David Schiva in qualche maniera Poi Giavorong la butta in mezzo all'area La correggia Grosher Giavorong Molto avanti 22 a 20 La ricezione di Rossara Già fuori il campo Brisara per Ster Il muro tocca Chiude la difesa Giavorong Orduna può scegliere Sceglie Grosher Palla degli spogliatoi Dopo il muro 23-20 Ce ne sono altri due sulla battuta di Recine La ricezione di Giavorong Sulla testa di Orduna Vada Grosher Palla terra 1-0 Monza Ma lo spettacolo non è finito Attenzione Prima Di poter pesce Tibor Rossara dai 9 metri In compiacenza avanti 2-1 Ma sotto 1-0 Nei set Sopra in eccezione Giavorong Ma tiene Orduna Poi Giavorong In sacca Ma la palla non cade La Gumcia da fermo Angola in diagonale stretta Dove c'è Grosher Orduna Va dal tedesco La palla vola Via Rossara è andata a prendere Se la banda Bielorussia Bielorussia Non ha supporto Da parte dei suoi centrali Comincia a essere Veramente problematico Fermare la grucia Orduna Per Galassia Ancora La gran difesa di Recine Puoi rozzare In sacca Per l'8-4 Piacenza La palla accompagnata In ogni caso Si riparte dall'8-4 Piacenza La ricezione di Giavorong Orduna Per Grosher Prova ad accelerare Orduna In chioda a terra Dalle p***e Non viene conteggiato Intanto l'errore Di Federici In ricezione La parata Nel campo In Piacenza La gunza Sopra il muro C'è la parata Di Federici Poi Grosher Finta La diagonale Trova la parallela C'è qualcosa Che non funziona Nel campo Di Piacenza La ricezione Di Scamper Poi la diagonale Di Rossara A segno Per l'11-9 E si Orduna Non riesce a toccare Grutta La mano esterna Di Orduna Per portare a casa Il tredicentimo punto Per la sua squadra Ricezione di Giavorong Orduna Alle dietro Per Grosher A sfondare il muro Si autocorrente Si autocorrente Il tredicentimo punto Per Monza Orduna in battuta Più due Monza Ricezione in palleggio Di Recine E Rossara In diagonale Strettissima Rimette in moto Piacenza Dopo tre Monza Monza più due Tutta il Calligaro La ricezione di Scamper La stessa di Brizar Poi Rossara In mezzo al muro Sul ritardo Di Grosher Passa ancora A Grosher Anche perché gliela vai A lanciare i test E mai guardandolo Negli occhi La ricezione di Scamper La poi Brizar Palla dietro Per Sterni Il muro La difesa di Grosher Sul profondo Orduna Va per Grosher La difesa Di Coccia Di non so figa E Rossara Non è che va a baciare La linea della terra Dai nove metri Ace Per Grosher 8 a 5 Grosdano Viene battuta Ricezione di Rossara Perfetta Sua testa di Pugliel Poi Rossara Va a toccare Galassi Ma la palla Schizza via Punto ancora Di Cibor Rossara Senza dubbio Il più lucido Il più efficace Orduna Con la dita Il nastro Riceve Olt Poi la guncia La difesa Di Orduna La palla torna Il campo in piacenza Pugliel Di seconda intenzione Fila la mano Orduna La palla ancora viva Poi il rimpallo In difesa Di Davieschino Dopo il stacco Di Grosher Pugliel per Rossara In parallela Si lancia Federici La palla Non è raggiungibile Punto a piacenza Ma Patuta di Pugliel Che dovrà per forza Forzare la palla E così E va a sbagliare La clube Pugliel Finisce così Monza vince Convince E va a sbagliare 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 E va a sbagliare